La torre dei segnali, una specie di forte munito di cannoni, offre una veduta tra le più estese della costa. Secondo una canzone popolare, da lì si avvisterebbe l'Africa. Questa torre è uno dei forti costruiti da Don Pietro IV d'Aragona per sorvegliare l'arrivo delle navi nemiche e dare l'allarme con i fuochi accesi. La vasta grotta dei palombi, una specie di colombaia naturale, è curiosa da visitare, ma la posizione sulla punta del capo Sant'Elia non le rende troppo facile l'accesso e benché fossimo nella barca di un console e con occhieri esperti che facevano tutti gli sforzi possibili, il vento non ci permise di entrare. La caccia ai palombi è tra le più divertenti, si fa in barca e con i lumi. Gli uccelli abbagliati, storditi, cadono in massa o rimangono impigliati nelle reti tese all'ingresso della grotta. La razza di questi palombi risale agli antichi, ma anziché rifugiarsi nelle tenebre, come fanno oggi, gli antichi colombacci popolavano tutto il promontorio che ne aveva ricevuto il nome di columbarium.